Benvenuti su News Gossip World, cari amici, dove tutto è pronto per svelarvi i segreti più piccanti. Prima di immergerci nell'oceano delle chiacchiere, non dimenticate di premere il pulsante del Me Pace, lasciare un commento scottante e, naturalmente, attivare quella campanellina per non farvi sfuggire nemmeno un dettaglio esplosivo in tempo reale. Ora, preparatevi perché la notizia che ha scosso l'intero mondo dello spettacolo italiano è più piccante di un caffè al bar. Barbara D'Urso, la celebre regina della televisione, è stata gettata nell'occhio del ciclone da un tradimento scandaloso. Sì, avete sentito bene, il suo maritino ha gettato nel calderone delle notizie piccanti il suo nome. Questa notizia ha fatto il giro dell'Italia come il fuoco nei media nazionali, scatenando un'ondata di curiosità e speculazioni che nemmeno la nostra diva potrebbe reggere. Pare che fonti molto vicine alla coppia abbiano rivelato che Barbara ha scoperto prove incontestabili dell'infedeltà del marito, il cui nome rimarrà per ora avvolto nell'ombra per rispetto della sua privacy. Dicono che Barbara sia rimasta senza parole, scossa dalla scoperta, e che abbia affrontato il suo partner traditore in una serie di confronti carichi di tensione emotiva. Oh, mamma mia, immaginatevi quegli scontri. Questa bomba ha scatenato una reazione a catena tra i fan sfigatati di Barbara D'Urso e i suoi spettatori affezionati. Migliaia di persone si sono unite a difendere la loro icona, esprimendo il loro amore e il loro sostegno attraverso i social media. È un vero e proprio tornado di solidarietà. Ma, attenzione, perché al momento Barbara D'Urso tace. Nessuna dichiarazione ufficiale, niente chiacchiere, preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. E non possiamo biasimarla, vero? Il tradimento del marito è una tempesta che metterebbe alla prova chiunque, specialmente quando c'è il mondo intero a scrutare ogni mossa. In ogni caso, questa è una storia che promette di tenerci incollati agli schermi e ai tabloid per un bel po'. Il futuro della regina della tv italiana è avvolto nel mistero. E noi di News Gossip World saremo qui per raccontarvelo nei minimi dettagli. Quindi, non staccatevi troppo dallo schermo, cari amici, perché questa è una di quelle storie che potrebbe svelare molte sorprese.